Il corridoio di Suwalki, lungo 65 chilometri e che separa la Bielorussia dall'ex clave russa di Kaliningrad e la Polonia dalla Lituania, è diventato un obiettivo strategico per la milizia Wagner, un gruppo di mercenari russi noto per la sua attività in Ucraina e in altri paesi. L'obiettivo della Wagner è quello di spezzare la continuità territoriale della NATO e di ricreare un'area di influenza russa. Se la milizia riuscisse a prendere il corridoio di Suwalki, gli stati baltici sarebbero isolati e dovrebbero essere riforniti dal mare o dal cielo. La questione del corridoio di Suwalki è stata sollevata da diversi anni, soprattutto dopo le tensioni tra la Russia e l'Ucraina. Nel 2014, la Russia ha annesso la Crimea e ha sostenuto i separatisti filorussi nell'est dell'Ucraina. Ciò ha portato alla creazione di unità di volontari della difesa territoriale lituana, che si sono formate spontaneamente per proteggere il proprio paese dalle possibili minacce russe. Queste unità hanno sottolineato l'importanza del corridoio di Suwalki e la necessità di proteggerlo in caso di un conflitto tra la NATO e la Russia. Negli ultimi anni, tuttavia, la questione sembrava essere meno grave grazie alla debolezza del presidente bielorusso Aleksandre Lukashenko. Dopo le elezioni presidenziali del 2020, Lukashenko è stato accusato di brogli elettorali e di aver represso le proteste popolari. Putin ha utilizzato le basi militari, il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina, ma non ha coinvolto direttamente l'esercito bielorusso per evitare il rischio di un ammutinamento. Tuttavia, l'arrivo della milizia Wagner in Bielorussia rischia di cambiare la situazione. Non si sa ancora quanti mercenari si installeranno nel paese, ma il loro capo, Evgeny Sprigodzin, si è fatto fotografare in mutande seduto su una brandina all'interno di una tenda da campo che i portavoce della Wagner asserivano essere nella loro nuova base nel centro del paese. Formalmente, il loro mandato dovrebbe essere di «contribuire all'addestramento dell'esercito bielorusso», ma la situazione non è chiara. La presenza della milizia Wagner in Bielorussia potrebbe essere una nuova arma nelle mani di Putin per spezzare la continuità territoriale della NATO e ricreare un'area d'influenza russa. La Bielorussia, con la Wagner, potrebbe diventare meno marginale di prima e Prigodzin potrebbe essere molto interessato a dimostrarsi utile al presidente russo. Le preoccupazioni della Polonia e degli stati baltici rimangono concentrate sui loro confini, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente se la milizia Wagner riuscisse a prendere il corridoio di Suvalki. La Polonia lancia l'allarme, gli alleati di Putin suggeriscono che Wagner invaderà il paese della NATO. L primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha avvertito sabato che il gruppo Wagner potrebbe pianificare un attacco ibrido, contro il suo paese dopo che l'organizzazione paramilitare ha spostato più di 100 truppe vicino al varco di Suvalki. Le tensioni tra la Polonia e il gruppo Wagner sono cresciute nelle ultime settimane tra le crescenti preoccupazioni per un'invasione incombente, iniziate dopo che l'organizzazione, che per mesi ha combattuto a fianco delle truppe russe nell'invasione dell'Ucraina, è stata espulsa in Bielorussia in seguito a un tentativo di ammutinamento contro i vertici militari di Mosca per la sua fallimentare invasione del paese dell'Europa orientale. La presenza del gruppo Wagner in Bielorussia ha alimentato il timore che possa invadere la Polonia per prendere il controllo del varco di Suvalki, un piccolo ma critico corridoio situato lungo il confine nord-orientale della Polonia che separa la Russia dall'exclav di Kaliningrad. Se il gruppo Wagner e la Russia dovessero prendere il controllo del varco, isolerebbero gli stati baltici dal resto dell'Europa, consentendo potenzialmente a Mosca di esercitare una maggiore influenza su queste nazioni. Sabato Moraviecki ha dichiarato che l'intelligence polacca ha suggerito che più di 100 truppe Wagner sono state spostate verso il confine, avvertendo che la situazione sta diventando ancora più pericolosa, secondo quanto riportato dall'organo di informazione ucraino-ucrainska Pravda. Questo è sicuramente un passo verso un ulteriore attacco ibrido sul territorio polacco, ha detto Moraviecki. È probabile che si travestano da guardie di frontiera bielorusse e che aiutino gli immigrati clandestini a entrare in territorio polacco, destabilizzando la Polonia, ma è anche probabile che cerchino di entrare in territorio polacco spacciandosi per immigrati clandestini, il che crea ulteriori rischi. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato sabato a Newsweek che i funzionari sono a conoscenza della presenza di alcuni combattenti Wagner in Bielorussia e stanno monitorando la situazione. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti rimangono impegnati a difendere ogni centimetro del territorio dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico NATO. La Polonia è uno Stato membro della NATO, il che significa che qualsiasi attacco contro di essa sarebbe trattato come un attacco contro l'intera alleanza militare, secondo l'articolo 5 del suo trattato di fondazione. Ciò significa che probabilmente attirerebbe una risposta militare da parte degli Stati Uniti e di gran parte dell'Europa. L'arrivo di prigozzine delle forze Wagner in Bielorussia è un altro esempio di come Lukashenko stia cedendo ulteriore controllo e potere decisionale al Cremlino, contrariamente agli interessi e ai desideri del popolo bielorusso, ha dichiarato il Dipartimento di Stato. Continuiamo a guardare con attenzione alle azioni che le forze Wagner compiono contro gli interessi dei paesi in cui operano e continueremo a intraprendere azioni per ritenerle responsabili. Nel frattempo, Olga Skabejeva, conduttrice del programma 60 Minutes della TV di Stato russa, ha suggerito durante un recente programma che il gruppo Wagner potrebbe attaccare la Polonia. I gruppi di monitoraggio filo-occidentali riferiscono che il dodicesimo convoglio del PMC Wagner è già arrivato in Bielorussia. Secondo loro, il nuovo convoglio comprende almeno 50 veicoli, blindati, autobus, camion, pick-up, autobotti e persino un escavatore. Quest'ultimo, probabilmente, sarà necessario per abbattere la recinzione che Varsavia ha costruito sul confine bielorusso-polacco, ha detto. L'avvertimento della Polonia segue settimane di crescenti tensioni con la Russia. L'ultimo avvertimento di Moraviecki segue settimane di crescenti tensioni tra Russia e Polonia. All'inizio del mese, la Polonia ha trasferito almeno mille truppe al confine con la Bielorussia, in seguito alla preoccupazione che la presenza del gruppo Wagner nel paese possa avere un effetto destabilizzante sulla regione. Il presidente russo Vladimir Putin, nel frattempo, ha risposto alle preoccupazioni della Polonia, affermando, senza prove, che la Polonia sembra voler prendere il controllo delle sue presunte «terre storiche». Ha aggiunto che la Polonia vuole prendersi «una buona fetta» dell'Ucraina e sta anche «sognando le terre bielorusse», ha riportato politico. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, un alleato chiave di Putin che ha mediato un accordo con Evgeny Prigozin, leader e fondatore del gruppo paramilitare, per porre fine alla ribellione dei Wagner, ha dichiarato domenica scorsa che il gruppo vuole marciare sulla Polonia. «Abbiamo iniziato a essere disturbati dal PMC Wagner, che chiedeva di andare in Occidente». «Ci permettete?» «Ho detto, perché volete andare in Occidente?» «E tranquillamente, abbiamo il controllo di ciò che sta accadendo, bene, andremo in tour a Varsavia e Rzezov», ha detto il presidente bielorusso durante un incontro con Putin, riferendosi alla capitale polacca, Varsavia, e a un hub militare chiave per il paese, Rzezov. «Abbiamo iniziato a fare il paese, Rzezov.